Ciao a tutti ragazzi, sono Petru e siamo tornati con un nuissimo video in facecam Era da due video che non mettevo la facecam, però dai raga, per fare una reaction ci vuole la facecam Quindi, se no che reaction facciamo senza Però tranquilli raga, se mai io per la reaction farò il video con la facecam Ma poi vabbè, aspettate che sto battendo contro le cuffie Ok ragazzi, rieccomi tornato qua Direi di iniziare con la prima animazione Ovvero, mai questo youtuber che è cinese, giapponese, minecraft, subcontinua in minecraft, hashtag 2 Ok ragazzi, sta iniziando Allora Ha picchiato un villager Di solito se picchi un villager ti assale il golem Mezzo cuore Sta scappando Ma sei scemo allora Tra l'altro una texture bellissima questa in minecraft Cioè ma non li andare addosso Ok, questo sta scavando Dai no Raga dai però Ma se lo sanno tutti che non bisogna scavarsi tutti i piedi su minecraft Mi sono fatto malissimo Ah, porca trota Porca trota Ah, porca trota Mi sono fatto Mi sono fatto malissimo Non importa Continuiamo Il microfono è acceso? Sì Ok Questo mi sembra che È nelle Vabbè, il volume va bene Sia nelle Skyworks Sta lanciando Le frecce ad uno Sia nelle Skyworks Credo Quando c'è la musichetta Vuol dire che saprà cadere qualcosa Ok Comunque raga Mi sa O che è nelle Skyworks Per forza Però di solito Nelle Eggworks Si mangia Ok Dai Ha tirato una Cosa gli ha tirato? Ti dà tipo il bon mio No Perché c'è l'albero Un po' sbrillucicoso Di solito è quando Che fai crescere un albero Diamanti gratis L'altro C'ha questa texture Bellissima Che troll Che troll Dai Che troll Cioè Vi immaginate Se questi accadono Se vai in giro Su Minecraft Sarebbe troppo figo Ok Sempre nelle Skyworks Tra l'altro Fighissima Sta texture Lo ripeto sempre Ok Sta venendo cecchinato Da due Un Silberfish Seda Quanto strano Il Silberfish Questa texture Ok Va nel nether Sta andando nel nether Bisogna Normalissimo Non è normale Che vai nel nether Non è Non è normale Che vai nel nether E si è circondato Da due pareti Di lava Non è possibile Cioè raga Allora cosa vai a fare Nel nether Se viene circondato Da due pareti Di lava Non lo so Nel deserto Non ha nulla Ha trovato un tempio Di so Io pensavo un'altra cosa Che entrava Tipo entrava nel Entrava nel tempio E premeva la pressure plate Dove c'era la trappola Di solito Entri nel tempio E c'è la trappola Vai al villaggio Ecco il minecart Ok Taro questo è un giappone Dove c'è Scusate l'immigranza Una specie di montagna rossa Ok Non sta cadendo niente Scende nulla Dove sono le medaglie Per questo Non vuole capire Dove sono le medaglie Per questo tizio Dategliele Dategliele subito Allora Si shifta Scava un blocco Si mette su Cioè dai Non potevi scavare Normalmente Ma dico io Esplode tutto Ah 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 beh Ha aspettato un attimo T'ha fregato T'ha fregato un attimo E un blocco Non aveva senso Ok ragazzi Mi sono spostato in un altro video Io ho sempre il terrore Per vedere un attimo Se il microfono è acceso Sì ecco Ok ci siamo spostati Su un altro video a vedere Adesso vediamo cosa accade Sta volando con l'Elytra Va bene E' normalissimo E' un altro video a vedere E' un altro video a vedere C'è Minecraft No No Frate Sei shifta Oh mio Dio Sono tutto rossa Ma dai Cioè raga Non fate gli scherzi Così ai vostri amici Non li fate così Su Minecraft Adesso che ci penso Mio amico Io avevo fatto Questo scherzo Cioè vabbè Quante tennetti erano Allora c'è un camion Ok Allora ecco un amico Ha piazzato una torcia Cade la sabbia Che è normale sì Ma darti tu schiaffi No vero Perché non te ne dici niente Che si piazzi qualcosa Vicino alla sabbia Crolla No vero Ok Continuiamo Allora Accendo il portale del nero Si ritrova le pareti di lava Cosa vi devo dire Tanto Prende fuoco Un tempio Vediamo Ma perché c'è già il buco Di solito non c'è il buco Quando vai nel tempio Devi scavare Ti prego E' praticamente impossibile Che un creeper Ti segua fino a lì Praticamente impossibile Però continuiamo Questo si butta E prende il ghiaccio Però anche a me è successo Di confondere acqua con ghiaccio Sono simili Sono similissimi Ok Stai nel neder Fai un polso Giustamente per passare Mentre ti butti in la lava Ok Sta andando Mi c'è il blocco Cioè ma i Wither Skeletron Non si trovano Di solito si trovano nella fortezza Però vabbè Non lo insulto io Metto a cuocere del ferro Prendi del ferro Ovviamente Per farsi l'armatura Penso No Poverino No poverino Mi sono arrivati Due tizi in casa Tutti Sono tipo Inciantati Allora Uno è inciantato In diamante L'altro in diamante No Che catti E mi sa che a questo Non rirromperei la fornaccia Se mi punta due spade Una In diamante E una In golden Se questo pesca Nella lava Giuro me ne vado Se ti metti a pescare Nella lava Io me ne vado Io l'ho detto Che se si metteva A pescare Sulla lava Io me ne vado Basta Me ne vado Perché più stupido Di così Non può essere Basta Oh ma che ci fai Te qua Te devi stare qua sopra Vedete Mi aveva voluto Prendere il posto Sto cagnaccio Vabbè Non sta piacendo Un video Sui migliori momenti Di minecraft Però continuiamo Stai spaccando Adesso cosa accade Ti scende la lava Arrivano centomila creeper Cosa accade Voglio vedere Diamante Diamante Peraltro No Non è usciato Cosa accade Vabbè Un zombie Ma non si può Non si può Non si può Tra l'altro è bellissima Quando arriva la musichetta No Non mi viene Però dai Tu ti sanno che È 0,96 Non bisogna guardarlo in faccia E adesso Adesso lo shotterà Ecco Gli va addosso Tanto Adesso ha paura Ci sono le sue urla Ma perché Ressi la scappa Mi sa che Fa una brutta fine Ok signori Mi sa che Non ha fatto Una bella fine Lui Però adesso Guardiamo L'ultima animazione Di minecraft Cioè L'ultima L'ultima tube Continuate Su minecraft In pratica Non è che sono I migliori momenti Di minecraft Ma sono Cose che possono accadere Su minecraft In realtà Si possono accadere Ma raramente Però continuiamo Innanzitutto Dall'inizio Ok Spacca Un po' di grano Questa l'ho già vista Piché al villager C'è il golem indietro Poi com'è che ti guarda Ah questo È su telefono Minecraft Su telefono Piccona sopra Trova un creeper Tanto Quell'altro Può trovare Vabbè Come fanno un po' tutti Per tornare Su a casa Se non troviamo Il sentiero Con le torce Spacca La sopra Vorrei dare uno schiaffo A questi Oh Questo invece È su playstation Non mi sento Più che altro L'xbox Tra l'altro Che skin c'ha In realtà Si è su xbox Lui Vabbè Ma cosa accadrà Di male Lo farà cadere Al massimo Il villager Lo farà cadere Che cosa invece Su tiktok Ok Sei veramente serio Trova i diamanti Che bello Quanti cuori C'aveva Due C'aveva due cuori Ancora Cosa sull'xbox Va nel nether La mappa Sul nether Non funziona Eccoti qua Pareti di lava Tanto Esce Cade Ma per le odio Ste cose Che nel nether Può anche spawnare Attenzione Qui c'è un ride E' sempre su xbox No Madone A me su playstation Creeper Mi sarà esploso Un botto Vicino a casa Ok Zombie spacca E' praticamente C'era Il Ha fatto ripercuotere All'infinito Il villager Che veniva attaccato Genius Vai nella lava Bravo Direi di guardarci Raga Quest'ultima Che dura Quattro minuti Poi Bella Bella Questa Questa Non ti agita Non ti agita Bene Signori Bene Signori Direi di guardarci Le ultime tre Le ultime tre Ok Eccolo Eccolo prima Devono essere Fighissime Devono far ridere Trova il diamante Trova 3000 enderman Spacca il blocco Boh Prende i diamanti Giustamente Devo lasciarla I diamanti Anche sopra Questo Questo mi ha fatto Un po' L'ha fatto un po' Rigiacchiare Però non è abbastanza Vediamo la seconda No, poverino l'amico Cioè in pratica voleva Lui voleva Voleva colpire il ghast Ma l'amico si è messo davanti All'arco e quindi ha preso lui Questa è la seconda, guardiamo l'ultima animazione di oggi Ok, sono sempre su tiktok Che stanno essendo anche su tiktok queste animazioni Poi sulla soul sand Sul ghiaccio, cali E un buco di lava Ok dai, l'ultima poi basta raga Ultimissima Pareti di lava 3.000 ghast Va bene ragazzoli Direi di concludere qui questo video Mi sono divertita anche abbastanza Vorrei dare un cerfone a questi qua Però se vi è piaciuto il video Lasciate come sempre un commento E un mi piace Iscrivetevi al canale Non abbiate porre di scrivere i commenti Perché io li leggo sempre State tranquilli Un bel mi piace Se sto al video Tassa iscriviti Abilitare il campanile Per non perdere i nostri miei video Anche su una reaction Sto parlando velocissimo Noi ragazzoli Ci vediamo domani Con un prossimo video Canale Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti